Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video, questo è un video haul, perdonate il look ma non mi sto qui a ripetere, fa troppo caldo quindi io vorrei girare i video nuda ma il vostro stomaco, il vostro cuore non sono ancora preparati, tutto questo e mai lo saranno comunque allora sulle labbra indosso un lip chubby matte lipstick di Debbie in particolare questo è il numero 16, the nude, sopra ci ho messo un po' di glossino trasparente ed è un colore davvero bellissimo ha effetto opaco, è un nude molto bello secondo me per l'uso quotidiano e sta bene sia incarnati e abbronzati che non comunque allora oggi siamo qui per parlare di shopping e anche in questo video è un fritto misto quindi ci sta il try and all dei vestiti, acquisti beauty, acquisti make up, insomma di tutto e di più direi di partire dalla prima bustina, sono stata da Accessorize per il compleanno di una mia amichetta devo fare dei regali, vi lascio qui il vlog comunque niente praticamente entro per fare il regalo a lei, che fai non ti compri qualcosa? ed ho comprato questo, voi direte tu stai fuori di testa, beh sì effettivamente una fuori di testa può comprare questa cosa ed è praticamente un cerchettino con delle orecchie e tutta questa corona di fiori questo l'ho preso per i get ready sinceramente, per tirare dietro i capelli e rendere comunque il tutto un po' più carino un po' più presentabile, mi avete suggerito voi questa cosa e quindi l'ho voluto prenderlo anche per fare magari qualche video perché no, insomma non si è mai troppo vecchie e questo da 12,90€ Accessorize sta fuori di testa e non ci vado mai appunto a comprare se non per i saldi l'ho pagato 3,47€ perché aveva lo sconto del 70%, col 70% bello mio viene a casa poi online sul sito di ASOS che il mio ragazzo ha le spese di spedizioni premium, vabbè non so come si dica tipo il Prime di Amazon dovrebbe essere, comunque ti arriva tutto il giorno dopo se è ordini entro tipo una certa ora e fate conto l'una, ecco avete tutto il giorno dopo, infatti adoro questa cosa comunque sia, è un sito che a me piace tantissimo, ha un po' di tutto, dall'abbigliamento, scarpe, makeup, di tutto e di più l'unica cosa è che io ci sono dei mesi in cui vorrei acquistare veramente di tutto adesso a parte ci sono i saldi e altri mesi che veramente non trovo una mazza vabbè comunque allora quello che ho preso io sono dei sandaletti, sono proprio piatti quindi questi non vanno bene a chi ha problemi insomma alla schiena però insomma io per magari andare al mare o fare una passeggiata insomma io mi ci trovo bene e adoro il fatto che hanno le borchie hanno la fascia davanti che tiene fermo il piede e poi questo qui che si lega alla caviglia a me le cose alla caviglia rendono tutto più sexy e niente questi li ho pagati tipo 10 euro perché erano in offerta, neri ovviamente, le borchie sono argento perché sono proprio per tutti i giorni quindi il nero va su tutto e l'altra cosa che ho preso è una maglietta, io ho preso la taglia M e io adoro le magliette che vendono loro perché hanno, cioè non costano tantissimo hanno una qualità abbastanza buona, questa è della marca Zibi London perché ovviamente hanno vari brand e è una maglietta che ha delle zone un po' trasparentine e poi mi piace perché sotto cade tipo a peplum quindi comunque non fa vedere il rotolone sotto e mi piace per tutti i giorni, è molto molto carina barra sexy insomma anche per la sera la trovo abbastanza elegantina barra ripeto sexy, ripetiamo il sexy e niente questo shopping tipo l'ho pagato intorno alle 30 euro questi due capi, ora non mi ricordo mi sembra la maglia, costa 6,16 ma anche se era scontata poi ragazzi grazie a The C&M ho avverato il sogno di una vita, ossia essere una principessa oppure per alcuni sarò tipo psicopatica che devo andare in un solito anche ospedale psichiatrico ma vabbè, quelle non voglio ascoltarle ho comprato le scarpe da Cenerentola sono delle scarpe a décolleté olografiche, non so se riuscite a vedere ma sono qualcosa di bellissimo e hanno appunto questo tacco molto fino a me piacciono da impazzire le décolleté ma non riesco purtroppo a camminarci perché io cammino un po' tipo papera e quindi quelle col tacco fino alto non si addicono alla mia camminata cioè veramente io preferisco non essere ridicola e portare dei sandali piuttosto che essere, cioè pensare di essere sexy con dei tacchi e poi cammino tipo tricheco quindi ho preso queste che mi piacevano un casino perché hanno un tacco basso e ci riesco a camminare benissimo e appunto costavano da 20 euro, da The C&M in salda 6 euro quindi approfittatene se vi piacciono perché veramente non costano nulla so che non possono piacere a tutti ma io magari per degli eventi, delle serate le indosserò sicuramente, so che magari potranno sembrare ridicole frega niente a me piacciono io passo dall'essere magari semi romantica a trash con le scarpone doppio plateau insomma a me piacciono un po' tutti gli stili ecco poi altro shopping l'ho fatto sul sito di Eco Verde che è uno dei miei siti preferiti per acquistare appunto prodotti Eco Bio con buoni inci innanzitutto perché mi sembra alla soglia di 30 euro si hanno le spese gratis infatti ho speso 35 euro ed era tutto gratis e poi perché praticamente se ordinate mi sembra entro mezzogiorno il pacco vi arriva entro 24-48 ore a me solitamente se ordino intorno alle 11 più o meno mi arriva il giorno dopo quindi è anche comodo se vi finisce un prodotto ordinare perché veramente il giorno dopo avete tutto anche per un regalo all'ultimo minuto insomma lo trovo davvero un ottimo sito e poi ha dei prezzi davvero molto vantaggiosi cioè io sono andata a Naturasia a vedere la Vera e tutti i prodotti che volevo ma in generale proprio il brand costano almeno 1 euro 1,50 euro in più a prodotto e capite bene se dovete fare scorta non è assolutamente conveniente se vi serve un solo prodotto sì perché comunque per fare un ordine online appunto dovete comprare anche cose che non vi servono per raggiungere la soglia gratis però se invece volete fare scorta di prodotti ovviamente conviene più ordinare online allora io ho preso tantissimi shampoo perché li sto terminando tutti in primis vi mostro questo che è lo shampoo riparatore di La Vera serve per nutrire e riparare i capelli questo è ideale per capelli secchi e danneggiati perché va proprio a nutrire è floreale la fragranza e viene una nota leggermente fruttata e questo l'ho pagato 3,99 euro come tutti gli altri appunto di La Vera poi ho preso questo che è 2 in 1 balsamo e shampoo perché siccome andrò in viaggio ho preferito prendere un prodotto del genere per non portare tutti i boccioni anche perché io ho veramente dei boccioni grossi per i balsami e niente questo qua praticamente ha la macadamia e mandorla e olio di mandorla la fragranza è davvero buonissima è uscito un pochino anche la consistenza sembra essere più corposa rispetto a uno shampoo e questo serve per le doppie punte per ridurle e l'ultimo è questo qua viola che dovrebbe essere all'arancia comunque questo serve per dare forza e volume quindi ideale per chi ha i capelli un po' piatti e vuole ridargli volume e anche questo ho pagato 3,99 di Benecos ho comprato questo che è praticamente uno shampoo all'aloe vera questo qua c'è scritto che è particolarmente delicato con succo di aloe vera e complesso di 7 bio estratti per capelli naturalmente più belli anche questo ho pagato pochissimo e mi ispirava tantissimo io in passato ho utilizzato gli shampoo Benecos e per l'uso quotidiano insomma mi sono piaciuti tantissimo poi di Organic Shop ho finito due shampoo che avevo acquizzato sempre su Eco Verde e ne ho voluti provare altri due io compro diversi shampoo perché innanzitutto faccio l'ordine una volta sola ogni tipo 3-4 mesi e poi comunque provo diverse cose e poi scelgo quale mi piace di più in modo da ricomprarlo perché tanto comunque ogni stagione ha diverse problematiche per il capello quindi io li uso tutti e vabbè comunque ho preso allora questo che è sul blu diciamo un po' più azzurrino che si chiama Blue Lagoon Mineral Shampoo pagato 2,59 euro questo è ideale per tutti i tipi di capello rinforza le radici quindi protegge contro la perdita del capello lo voglio utilizzare subito visto che mi sto facendo le tinte insomma lo voglio utilizzare in questo momento che i capelli ne hanno bisogno poi l'altro che ho preso è questo qua che ha il packaging verde questo si chiama Moroccan Princess Repair Shampoo è sempre 2,59 euro per capelli danneggiati rinforza la struttura del capello quindi molto simile a questo secondo me come effetto del brand White Agafia che non conoscevo assolutamente ho preso l'Organic Sea Backthorn Shampoo vabbè comunque questo ha 280 ml e ha un prezzo di 3,59 euro è per tutti i tipi di capelli anche questo agisce sulle radici ecocertificato insomma vegan ok e ha il 97% di ingredienti d'origine naturale comunque è allo livello spinoso volume e lucentezza l'ultimo shampoo che ho comprato grazie a dio è di Nonna Gertrude dovrebbe essere Oma Gertrude che è un brand che non se ne sente parlare ma io ho provato cioè ho in bagno un altro shampoo e mi piace tantissimo a parte il fatto che sono mezzo litro i loro shampoo di questo brand che hanno un costo di 4,49 euro quindi super convenienti ma poi sono davvero efficaci e questo in particolare che ho preso io è l'Everyday Shampoo essendo un formato grande ho pensato di prenderlo adesso per l'estate perché comunque lavo i capelli veramente tutti i giorni e se non tutti i giorni un giorno sì e l'altro pure no sto scherzando un giorno sì e uno no altri prodotti che mi servivano erano i balsami labbra e io ne ho preso uno di Alviana che è un brand che io non conoscevo dovrebbe essere sempre tedesco ed è appunto questo qua la fragranza è a olio di argan e noce di macadamia quindi sarà buonissimo e questa è una sottospecie diciamo se così vogliamo dire di alternativa a un classico gloss perché ha tipo dei pigmenti per far brillare le labbra io solitamente essendo che il burro cacao veramente meno mangio lo metto molto spesso in estate tutte le sere, tutto il giorno soprattutto quando vado al mare è carino avere dei pigmenti che rendono le labbra leggermente luminose e poi invece ne ho preso uno proprio nutriente che è della Crazy Rumors che è un brand che io adoro per quanto riguarda i lip balm anche se è da tanto che non ne compravo uno e questo è al limone, al lime anzi che dovrebbe... sì al lime costano 4,19 euro che è un po' però sono davvero molto validi poi vabbè mi hanno mandato dei campioncini che ho scelto io e questo era tutto ecco verde vi ho annoiato, lo so, passiamo avanti allora per quanto riguarda Octoly io ho scelto di collaborare con LaLaLab che è un sito, un'applicazione dove voi potete stampare le foto in tutti i formati che volete poster, calendari, quadri ci sono anche questi che sono diciamo simili a quelle foto che voi scattate e vi esce subito e io adoro tantissimo questo formato tra l'altro LaLaLab mi ha fornito un codice sconto che io vi lascio giù che dovrebbe essere mi sembra o del 15 o del 20% comunque vi metto tutto in sovraimpressione e giù e niente ho scelto di farmi stampare 32 foto visto che praticamente adesso facciamo un anno io e il mio ragazzo ho deciso di farmi stampare le fotine nostre con scritto perché potete personalizzarle la e il mese in questo caso ad esempio qui ho scritto qui ho scritto noi vedete cioè potete scriverci quello che più vi pare la cosa che adoro è che sono venute veramente benissimo io non me l'aspettavo cioè quelle che erano leggermente sgranate sono riuscite a renderle più cioè fatte benissimo guardate pure la scritta qui aperitivo yes vabbè poi maggio insomma 2018 la prima volta a Milano cioè veramente mi sono fatta stampare di tutto poi eravamo tipo assonnati sul notturno abbiamo vissuto praticamente vabbè tra Stevere a casa sua il palaghiaccio insomma Natale ci sta veramente di tutto Fontana di Trevi cioè vabbè comunque insomma questo è uno dei regali che gli farò per il nostro anniversario poi qua c'è la più bella che è l'inizio di un sogno quando ero magra con i capelli lunghi però vabbè e niente vabbè comunque questa è stata la La Lab che io ringrazio tantissimo perché mi ha consentito di fare delle una sorpresa una delle sorprese più belle per il nostro anniversario e poi guardate pure la scatola cioè è proprio una confezione regalo questa io la incarterò e lui non si aspetterà mai che cosa contiene se vi domandate quando farò l'anniversario il 19 agosto e se vi domandate ma lui non vede questo video no sicuro non lo vede poi sempre My Jolie Candle che io adoro letteralmente ho scelto una nuova candela ho scelto questa candela che è la Cupcake Noisette cioè ragazzi questa sa di cupcake chi ama le fragranze dolci non può non comprarla come vedete dietro ai miei video ne brucio sempre una cioè io adoro le accendo anche mentre mi trucco e praticamente i packaging sono davvero molto decorativi anche per la postazione cioè io veramente le adoro mamma mia e la cosa bella di questa è che sono cera 100% mezzetale una curiosità che vi avevo detto l'altra volta è che la ripeto è che ho visto un ragazzo che fa video qui su youtube utilizzare proprio la cera di questa candela perché è praticamente fatta solo da oli proprio come maschera per il viso infatti se voi la sentite cioè vi lascia proprio unta la pelle io ancora non ho provato questa tecnica e non penso la proverò però veramente l'adoro poi non costano tanto stanno tra la ventina e la trentina di euro e all'interno c'è un gioiello Swarovski veramente originale che con il loro codice potete andare a vedere il prezzo sul loro sito io ci trovo sempre o bracciali o collane o anelli per esempio un anello che ho io ho trovato questo qua con il cuoricino cioè è veramente bellissimo assomiglia tantissimo a quelli tipo stile Pandora e niente io le adoro so anche il punto luce ogni volta mi chiedete dove l'hai comprato l'ho trovato appunto nelle Majelie Candle ultimo prodotto ricevuto grazie all'app Octoly questo qui di Origins Origins è un brand che praticamente a parte hanno fatto un evento bellissimo a Roma tempo fa al quale ho partecipato ma poi è un brand che appunto trovate sul sito di Sephora hanno tutti i prodotti che uniscono alla chimica agli ingredienti naturali perché loro comunque si prendono proprio cura della pelle io ho avuto modo di testare diversi loro prodotti non ce n'è uno che non mi è piaciuto ma comunque ve ne parlerò presto e di uno già ve ne ho parlato comunque loro mi hanno mandato questa qua che si chiama Buy All Green che cos'è questa? allora è una maschera all'argilla vedete? verde che praticamente questa qua si attiva massaggiandola e diventa praticamente tipo schiuma quindi va proprio a detergere e a purificare sembra un po' tipo la spuma o il dopo barba per farvi capire e praticamente questa qua attivandosi deterge in profondità ma delicatamente libera veramente i pori da tutte le schifezze varie io questa per il momento la sto facendo un giorno sì e due no soprattutto la sera perché questa va proprio a liberare i pori dalle schifezze diciamo di tutta la giornata quindi anche dall'inquinamento insomma mi piace veramente tantissimo la uso proprio un po' di sapone su tutto il viso diciamo non la lascio agire la massaggio per un minuto circa e poi vado a risciacquare e mi sta piacendo veramente tantissimo la fragranza poi è molto delicata profuma ma diciamo non è un profumo stomachevole anzi è delicatissimo buonissimo altri prodotti li ho ricevuti da Benefit Benefit è uscita con i 3D Brow Tones che sono praticamente dei prodotti per sopracciglia fatti a mascara che vanno a colorare le sopracciglia di vari colori ad esempio c'è questo che vedete è viola o fa le vostre sopracciglia viola e questi sono li hanno fatti diciamo per chi comunque ha i capelli colorati e vuole le sopracciglia giustamente del colore dei capelli ma anche semplicemente per le ragazze normali che comunque vogliono dare una sferzata di colore magari abbinandole al colore dell'occhio diciamo per far risaltare il colore dell'occhio o semplicemente agli ombretti che avete applicato ovviamente l'effetto può essere sia naturale sia bello intenso non è che vi ritrovate le sopracciglia di questo colore cioè ovviamente mantengono un colore anche sobrio e infatti mi stanno piacendo tanto mi aiutano a uscire dalla mia comfort zone comunque poi vi farò vedere delle foto su instagram o comunque anche qui un get ready dove li provo il mio preferito comunque per il momento è magenta ma hanno fatto anche un colore bellissimo che è il colore teal vedete eccolo qua e poi abbiamo il colore copper che è un colore diciamo bronzo ed infine il colore blu poi mi hanno mandato i punch pop che sono dei liquid lip color dei classici gloss che hanno questa forma qua guardate che figa l'ha scritta molto anni 90 insomma 80 penso più che 90 molto carini e hanno proprio il classico scovolino di un gloss sono fatti a tubetto io adoro perché così potete accorgervi quando li state per terminare ma il pezzo forte è questa valigetta qua che mi hanno mandato ed è una valigetta fatta di mini size perfetta per l'estate perché contiene all'interno il pore professional quello là shimmer quindi ideale per l'estate l'aula di benefit che è la loro terra un blush il bad girl bang che è uno dei miei mascara preferiti ed è il mascara preferito di benefit il cabrow che è quel prodotto perfetto per le sopracciglia ed infine c'è la brow pencil quindi veramente un kit fantastico tra l'altro una valigetta che non occupa neanche tantissimo secondo me perché è davvero comoda ed è bellissimo secondo me anche come idea regalo giuro che siamo quasi arrivati alla fine allora rosegal mi ha dato un budget sul quale acquistare dei prodotti sul quale scegliere dei prodotti e io ho scelto questo qui che è un costume tipo stile bewatch col peplum la parte di sopra è bellissimo e il sotto è praticamente nero con tutti i fiori rossi io questo l'ho già indossato è piaciuto tantissimo cioè vabbè per quanto possa piacere io un costume però nel senso comunque tutti mi hanno chiesto dove l'avessi comprato perché è davvero molto bello poi tra l'altro io adoro il fatto che questo è uniforme cioè rosso classico quindi potete metterlo anche con mutande bianche nere non per forza con queste e invece questa potete abbinarla comunque a dei pezzi di sopra magari rossi o appunto neri cioè quindi sono io vabbè nel senso i costumi li intercambio non è detto che questi come sono nati così devono morire così no poi un altro capo che ho scelto è una maglietta bellissima questa vi è piaciuta tantissimo mi avete fatto tantissimi complimenti quando l'avete vista in un video ed è una maglietta stile floreale che ha tipo degli intrecci col pezzo qui c'ha un po' di scollatura e poi ha le maniche che lascia le spalle scoperte ma copre diciamo la parte più grossa quindi mi piace tantissimo e cade giù larga tipo camiciola quindi molto molto bella io ho preso la L ma mi sarebbe stata bene una M perché questa è un po' larga poi vabbè mi sono presa un cerchietto questo qua carinissimo da gattina nero anche questo per i classici get ready o per qualche foto insomma ora vediamo ormai lo lascio poi ho preso un vestito che questo mi piace tantissimo allora è un vestito lungo nero sotto tutto floreale cade aderente fino alla vita e poi sotto è floreale ha uno spacco molto bello e dietro è più lungo ma la particolarità che mi piace tantissimo di questo vestito sono le maniche le maniche perché hanno tutti degli intrecci bellissimi con questa trama argento e niente a parte poi ci sono freschissima e lo adoro poi un altro vestito questo un po' più da sera è questo nero qua un po' svolazzante che non so come farvi capire infatti questo cioè indossato si capisce meglio mi piace il fatto che sul seno ha praticamente quell'intreccio molto sexy e poi ha un po' fruffru nel senso sulle maniche l'unico fatto di questo è che ha uno spacco sulle gambe davvero molto grande quindi sicuramente lo farò un po' accorciare perché insomma se avete delle belle gambe anche si se avete delle gambe grosse cellulose come me anche no e l'ultimo che è il più bello e ogni volta che lo metto ricevo un sacco di complimenti perché è veramente il vestito più bello da principessa che io abbia mai avuto è un vestito rosa rosa questo c'è in tantissimi colori anche qui ho preso una taglia più grossa purtroppo infatti questi me li comprerò ma in tagli più piccoli perché ci sono vari colori comunque sia è un vestito che ha le maniche svolazzanti che coprono sempre la parte più grossa del braccio e lasciano intravedere le spalle quindi rende tutto molto sexy ha uno scollo e cade veramente giù largo questo vi è piaciuto tantissimo su instagram seguitemi su instagram che molto spesso li vedete indossati in anteprima e anche questo comunque giù è dietro è più lungo e davanti è un po' aperto più corto e mi piace veramente tantissimo niente questo è tutto lol cioè veramente mi sono sbizzarrita sia in acquisti sia in prodotti ricevuti ne ho ricevuti davvero tantissimi ma sono stata brava perché almeno in questo haul di make up non c'è nulla che ho acquistato stavo ricontrollando ok se no non c'è nulla niente io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia vi sia piaciuto io non vi abbandono come vedete neanche ad agosto sto stirando cioè veramente sto ok vi mando un bacio spero appreziate il mio sforzo di registrare soprattutto di provare i capi con questo caldo che veramente non se ne può davvero più io vi mando un grosso bacio e vi ringrazio per averlo visto ciao